Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo di situazione coronavirus, c'è stabilità nei numeri dell'ultimo bollettino. Parleremo di 25 aprile, siamo alla vigilia di questa importante celebrazione che verrà eseguita a Ferrara. Oggi si sono tenute le celebrazioni invece a Porotto, vedremo le immagini, parleremo però anche di musica col Sacro Vivaldi al teatro comunale e parleremo anche di salute con le camminate opportunità di movimento in sicurezza. Ma dobbiamo aprire purtroppo questa edizione con la tragedia della scorsa notte, quella tra sabato e domenica sulla statale adriatica all'altezza di mezz'anno nel Ravennate una giovane di Ergenta, Desiree Baldi, 19 anni, compiuti pochi giorni fa, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un'auto con altri tre coetanei, due ragazzi e una ragazza alla guida per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Il mezzo sarebbe uscito di strada rovesciandosi a fianco della careggiata immediato l'intervento dei soccorritori che per la 19enne non hanno potuto fare nulla. Un ragazzo che era in auto nella stessa auto si troverebbe in gravi condizioni all'ospedale Buffalini di Cesena, non sarebbe in pericolo di vita, gli altri due ragazzi sono stati riportati all'ospedale di Ravenna e le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Cambiamo argomento adesso, esordio ufficiale questa mattina del Comitato per la memoria dei dieci martiri di Porotto che ha promosso all'interno delle manifestazioni messe in campo dal Comitato a celebrazioni 25 aprile di Ferrara per ricordare il 77esimo anniversario della liberazione ha messo in campo un percorso della memoria con l'omaggio ai tre cippi che ricordano uno degli episodi più dolorosi della storia della Seconda Guerra Mondiale all'interno della piccola comunità di questa frazione in cui siamo stati Porotto alle porte di Ferrara. Vediamo. Qualcuno li definisce momenti istituzionali, ricordi celebrativi delle vittime ed esecrazione di chi si è reso colpevole e complice dieci di che, come è successo a Porotto, hanno concluso la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Consapevoli del rischio di finire nella ritualità, Porotto ha dato vita in questi mesi ad un comitato che si è preso l'impegno di far rivivere nella memoria odierna l'ecidio dei dieci cittadini barbaramente uccisi fra il 24 marzo e il 20 aprile del 1945, alla vigilia della liberazione di Ferrara dalla dittatura nazifascista. L'omaggio di questa mattina i tre cippi che a Porotto ricordano l'uccisione dei dieci giovani antifascisti non ha avuto nulla di rituale. La cerimonia si è snodata lungo un percorso partito dal cipo di Via Tagliaferri, posto nel luogo dove il 24 marzo del 1945 furono sorpresi e in parte uccisi, in parte catturati e poi uccisi tre antifascisti, un cittadino di Gallierne Bolognese e due di Ferrara. Poi ha fatto sosta presso il cipo di Via Ladino, posto al centro del paese dove fa memoria di queste vicende l'intera comunità e a chi vi arriva di passaggio. E infine al cipo di Fondoreno, fuori del paese, in mezzo ai campi, dove furono barbaramente trucidati sette giovani cittadini di Porotto, prelevati dalla loro casa la sera del 20 aprile del 1945, inermi e inconsapevoli. Nessuna volontà è attualmente celebrativa, ma ricordi, fatti e soprattutto emozioni, quelle che scatturiscono dai luoghi del martirio, come ha detto Antonella Guarnieri, storica e componente del comitato, e dalla rievocazione della breve vita di quei dieci ragazzi, cui hanno dato voce alcuni giovani nelle scuole superiori ferraresi, tutti cittadini di Porotto, ex allievi della Presidente del comitato, Vanessa Rossetti, che ci dice che cosa significa oggi per Porotto la costituzione del comitato stesso. Per Porotto significa ancora, vista la presenza di diverse persone che hanno vissuto veramente quei fatti, significa anche risvegliare un grande dolore, ma significa anche trasformare quel dolore in un insegnamento per le persone di oggi, soprattutto per i ragazzi. Come avete potuto vedere, la novità e il lavoro di quest'anno è stato il coinvolgimento dei giovani che hanno provato a dimedesimarsi in uno di quei dieci ragazzi e mi sembra che ci siano riusciti in maniera egregia. Con loro abbiamo fatto questo breve percorso e quando le ho chiesto di mettersi nei loro panni ho visto che è cambiato qualcosa in loro, sono riusciti a non vedere questi avvenimenti come un qualcosa di lontano e intangibile per loro, senza collegamento con il presente. Quando hanno provato a mettersi nei loro panni hanno sentito questi avvenimenti come ciò che ha determinato in realtà la vita che facciamo oggi e questo credo sia il messaggio principale. Fra i presenti alla cerimonia molti cittadini, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e rappresentanti dell'istituzione, fra questi la senatrice Paola Boldrini e l'assessore del comune di Ferrara, Angela Travagli, entrambe di Porotto. Sentiamole. La commemorazione degli cidi di Porotto, tornata nei luoghi della memoria dopo due anni di lockdown, non ha potuto fare a meno di mettere in primo piano l'incubo degli errori della guerra. Oggi come ieri, la violenza genera violenza e devastazione. Il ricordo della libertà dalla dittatura nazifascista non ha potuto così fare a meno di rivocare quanto sta accadendo in Ucraina. Oggi, ha detto la senatrice Paola Boldrini, parlare di libertà significa confrontarsi con la qualità di un presente che ci mostra, come in Ucraina, quanto siano fragili i valori della libertà e della pace, se non adeguatamente e costantemente difesi. Sono valori, ha sottolineato l'assessore Angela Travagli del comune di Ferrara, che hanno le loro radici nel libero pensiero e nella cultura. Parlare oggi di libertà in questa settantesima commemorazione che facciamo qui a Porotto dopo tanti anni, avendo purtroppo davanti agli occhi quello che sta succedendo in Ucraina, è veramente difficoltoso. Ci porta davvero ad avere sconforto. Io reputo però che noi dobbiamo tutti combattere affinché si ritorni ad avere la pace, soprattutto in Europa, perché quello che sta succedendo in Ucraina adesso, con l'aggressione della Russia, mette in pericolo purtroppo anche tutti noi in Europa. Io credo che dal grido di allarme che è venuto anche da Papa Francesco, lo voglio ricordare, dal Presidente Mattarella, credo che bisogna davvero unirsi come Europa e come tutti gli altri popoli del mondo per ritornare ad avere una pace, una pace che deve essere continua, così come è stata continua per sentata sette anni. Ovviamente l'impegno deve essere di tutti noi, di tutti noi, tutti i giorni, per cercare di raggiungere la democrazia e la libertà, così come hanno raggiunto e ci hanno aiutato a raggiungere la libertà, anche i nostri dieci martiri per otto, che grazie anche al comitato, lo devo dire, è molto importante il passaggio che abbiamo avuto oggi qui, il comitato per la memoria dei dieci martiri di Porotto è utile proprio perché questa comunità deve rimanere e ricordare quello che è successo tanti anni fa, proprio per dire che sono avvenimenti che hanno segnato un territorio e che non possono dimenticare e dobbiamo riconsigliarlo alle nuove generazioni. La memoria, ho sottolineato che purtroppo è stata un po' delegata alla tecnologia oggi, che ben venga la tecnologia, ma la memoria deve essere impressa nel nostro pensiero, quindi nella cultura, nella conoscenza, nel sapere e quindi il fatto di trasferirla alle nuove generazioni è fondamentale perché portano avanti la memoria, la storia e quindi anche un principio della libertà, di vivere secondo principi che sono democratici e quindi comunque anche il diritto alla libertà e quindi il rispetto anche degli altri. Coronavirus adesso, situazione stabile nel Ferrarese come a livello regionale dove si registra un calo della pressione ospedaliera. 324 i nuovi contagi nel Ferrarese, casi in media rispetto agli ultimi giorni e nel bollettino emesso domenica non si registra nessun decesso in territori estense. A livello regionale sono quasi 5.200 i nuovi positivi, età media 47 anni e circa 4.600 i nuovi guariti, 8 purtroppo ed eccessi in Emilia Romagna a causa complicazioni apportate da Covid. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive regionali sono 36, in calo del 2,7% rispetto al bollettino precedente e l'età media è di 66 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti ordinari Covid regionali, sono oltre 1.400 le persone, numero invariato rispetto al bollettino precedente, età media 76 anni. Cambiamo argomento, si chiama Ragazze Digitali ER ed è un progetto di orientamento formativo promosso e finanziato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con diversi atenei della Regione che ha come obiettivo l'avvicinamento delle ragazze all'informazione, alla programmazione per ridurre il divario digitale di genere. Ce ne ha parlato la professoressa Elena Bellodi del Dipartimento di Ingegneria di Unife. Che cosa è emerso da questo incontro? In questo incontro abbiamo invitato la prorettrice all'equità e all'inclusione, la professoressa Zappaterra, la prorettrice Vicaria, che è ingegnere, la professoressa Lamma e una studentessa di dottorato e una nostra studentessa sempre al Dipartimento di Ingegneria della laurea magistrale. Il nostro intento era, nella prima parte, mettere in evidenza il fatto che serve ancora nell'ambito dell'ICT, del settore dell'informazione, una componente femminile in ambito lavorativo che è manca. Quindi ci sono tantissimi posti di lavoro, una domanda molto superiore all'offerta e questi posti sono veramente anche per le ragazze. In secondo luogo abbiamo descritto un'iniziativa per la quale sono referente per l'Università di Ferrara, che partirà a giugno 2022 ed è sponsorizzata dalla Regione Emilia-Romagna, in particolare dall'assessore Salomoni, è sponsorizzata dall'Università di Ferrara e dagli altri atenei regionali. È un campo estivo che si svolgerà dal 20 giugno all'8 luglio 2022 in tutti gli atenei della Regione, nello stesso momento, con un percorso laboratoriale in cui le ragazze potranno venire a vedere quali sono le applicazioni dell'informatica e soprattutto realizzare tramite dei progetti seguiti dai nostri tutor, delle attività, appunto, dei progetti che sono basati, per esempio, a Ferrara sull'intelligenza artificiale, sull'Internet of Things e quindi che sono, diciamo, gli hot topic in questo settore, nel settore dell'informatica. Il camp prevede anche un percorso seminariale al pomeriggio in cui le studentesse potranno, invece, diciamo, ascoltare delle testimonial che hanno fatto la propria crescita professionale nell'ambito ICT dell'informazione. Questa iniziativa è rivolta a tutte le studentesse di qualsiasi istituto superiore di terza e delle classi terze e quarte. Serata speciale, quella di sabato, ieri al Teatro Comunale di Ferrara, in scena la musica sacra di Ivi Valdi, protagonista anche Vittorio Sgarbi. Vediamo. Musica e arte hanno riempito il Teatro Comunale di Ferrara con Sacro Vivaldi, nuova produzione originale della Bado, sabato 23 aprile, per San Giorgio, patrono della città. Le opere d'arte scelte da Vittorio Sgarbi hanno dialogato con la musica sacra di Vivaldi, con Federico Maria Sardelli, massimo conoscitore dell'opera vivaldiana, alla direzione del coro e dell'orchestra Accademia dello Santo Spirito. Si tratta di una rinnovata collaborazione, dopo il successo ottenuto nel 2021, con il Farnace di Vivaldi, un'altra produzione del Teatro di Ferrara. A impreziosire la serata sono state le voci del soprano Silvia Frigato, del mezzo soprano Aurora Fagioli, del tenore Alessio Tosi e del basso Mauro Borgioni, oltre alle installazioni scenografiche a cura di Lorenzo Cutuli, con l'assistenza di Marianna Moreira, il progetto ideato da Marcello Corvino. Musica e arte. Musica e arte. Il concerto per archi ha introdotto il viaggio nell'arte, con Vittorio Sgarbi sui temi dello Stabat Mater e del Dixit Dominus, il percorso si è aperto con il Cristo morto di Mantegna. Poi via via tante le opere esposte dal critico d'arte e al coro, per il bis finale, si è unito anche Sgarbi tra i numerosi applausi del pubblico. Musica e arte. E dalla musica rimaniamo in ambito artistico, andiamo in Pinacoteca Nazionale con la mostra Dossier per il ritorno di un'opera digitale. Girolamo da Carpi a Ferrara in Pinacoteca. La mostra aperta il 5 aprile resterà visibile fino al 25 di settembre. Sentiamo in proposito la direttrice delle gallerie estensi, la dottoressa Martina Bagnoli. L'acquisto da parte del Ministero della Cultura del dipinto raffigurante la Sacra Famiglia di Girolamo da Carpi, intitolato La Sacra Famiglia nel paesaggio, rappresenta il ritorno a Ferrara di un'opera fra le tante che hanno lasciato la città e l'Italia nei secoli, ma è anche un secondo ritorno in patria dell'artista che, cinque secoli fa, dopo aver lasciato Ferrara per svolgere la sua attività pittorica altrove, soprattutto a Bologna e a Roma, nel 1534 fu richiamato dal duca Ercole II alla corte estense, dove rimase e operò fino alla morte, tranne brevi parentesi romane come artista a tutto tondo. Questo piccolo dipinto di Girolamo da Carpi recupera un tassello importantissimo della vita culturale del Cinquecento a Ferrara, un tassello che era andato perduto nel corso della storia ferrarese e delle collezioni pubbliche ferraresi. È un dipinto che mostra un Girolamo da Carpi particolare, di piccole dimensioni, un quadro di intimità, molto classicheggiante e quindi ben completa la nostra rassegna cinquecentesca. Le acquisizioni sono proprio importanti per questo, per continuare ad investire in una ricerca di un periodo storico, ma anche per presentare nuove idee, nuove proposte, magari anche proprio su dei momenti degli studi che si pensava di aver già completamente approfondito. Infatti, come sentiremo anche dalla curatrice di questa mostra, questa acquisizione è al seguito di una pubblicazione, una recente monografia, che ha portato alla luce dei quadri che erano andati, delle opere che erano andate, per così dire, perdute e delle attribuzioni a questo grande artista che si erano un po' perse nel tempo. Ecco, quindi in insunto, al continuo accrescimento delle collezioni è necessario per il museo, per continuare ad essere un'istituzione viva dal punto di vista dei rapporti col pubblico e dal punto di vista della ricerca. E' giovedì 5 maggio, alle ore 18, prende il via il primo appuntamento sulle mura, a partenza d'Altorione e San Giovanni. Stiamo parlando delle camminate della salute a cura di esercizio vita, un'opportunità per tutti di movimento in sicurezza. In settimana la presentazione alla stampa, ma perché muoversi è così importante, ce lo spiegano gli esperti. Presentate oggi le camminate della salute, un appuntamento importante che volge proprio al benessere dei cittadini ferraresi. Ecco, qual è l'importanza dunque di questa iniziativa e del muoversi in maniera corretta? L'importanza di questa iniziativa è fondamentale come strumento di prevenzione a tante patologie che sono correlate proprio con una vita sedentaria, con una vita non di moto e che purtroppo sono sempre più presenti nella nostra popolazione. Perché? Perché viviamo oggi più che mai, a parte il discorso della pandemia, del lockdown, ma anche la quotidianità ci porta a una vita molto sedentaria. che chiaramente tutto quanto riguarda la tecnologia ci ha dato tanto, ma è ovvio che sia nel campo lavorativo e anche non ci porta a una sedentarietà piuttosto prolungata. Ecco dunque che un'iniziativa come questa, che promuove il moto, l'attività fisica, è quanto di più auspicabile si potesse avere. Lo sport per tutti può essere praticato sotto maniera diversa, immagino, da tutte le fasce della popolazione? Lo sport, sì, deve essere per tutti, soprattutto anche l'attività motoria in senso generale. Non è obbligatorio che uno faccia sport a livello agonistico. L'importante è il movimento. L'uomo è fatto per muoversi, per camminare, da quando ci sono le biciclette, per andare in bicicletta, per nuotare. Cioè il corpo umano è fatto per il movimento. Quindi questa iniziativa si innesta nello sforzo di promozione dell'attività motoria in genere, è rivolta a tutta la popolazione, in particolare a quella sedentaria. È chiaro che noi come Servizio di Medicina dello Sport svolgiamo un'attività clinica di prevenzione principalmente per chi fa sport strutturato dentro le società sportive a livello agonistico, ma è molto importante questa azione di promozione anche per il livello non agonistico. Quindi questa iniziativa spinge e rafforza tutto lo sforzo che ci può essere da parte degli enti di promozione sportiva e società sportive per rendere fruibile l'attività motoria, anche quella non agonistica, a tutta la popolazione, anche a quella giovanile. Abbiamo aderito a questa iniziativa da parte dell'Organizzata del Cizzo Vita con il patrocinio del Comune per coinvolgere gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie e dei corsi di laurea magistrali in scienze tecniche dell'attività motoria primitiva adattata presso l'Università degli Studi di Ferrara. Gli studenti imparano a gestire tutti i parametri relativi a queste camminate che sono legati naturalmente agli aspetti dell'intensità, del volume, della frequenza, ma anche degli aspetti legati alla sicurezza dei partecipanti a queste camminate e lo fanno in maniera teorica in aula con me, ma avremo l'occasione di farlo in maniera pratica facendo partecipare direttamente anche gli studenti a queste camminate in modo che possano capire con mano e toccare da vicino tutti quelli che possono essere gli aspetti dai più semplici fino a anche quelli più problematici relativi alla partecipazione a queste camminate. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica sera. Grazie a tutti.